I nostri confronti, ripeto, prendete il motore e mettete le mani bene in vista. Che vuoi fare? Io non mi arregno. Max, devi fare qualcosa. Quante volte, Max? Quante volte quella donna deve ancora subire violenza? A sentire! Vuoi darti una calmata e starmi a sentire? Non farmi mentire di averti portato qui! Vaffanculo! Ripeto, pegnete il motore e mettete le mani bene in vista. Senti, Louise, non torniamo indietro. Che vuoi dire, Thelma? Fermiamoci. Non capisco. Coraggio. Sei sicura? Sì. Dai. Ehi! Ehi! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.